Cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il Ruchè. Da parte dei carabinieri non sembrano esserci più dubbi nel nord dell'Astigiano. Da qualche tempo sono all'opera dei veri piromani che prendono di mira rotoballe di fieno di paglia e cataste di legname. L'ultimo attentato incendiario è stato messo a segno nella notte a Camerano Casasco, dove hanno dato fuoco ad una grossa catasta di legna. Come già avvenuto due settimane fa, i piromani hanno agito in aperta campagna. Allora diedero fuoco ad una ventina di rotoballe. Questa volta in località Vignassa hanno mandato in fumo 120 quintali di legna accatastati in un terreno di proprietà di un impiegato del paese. Il danno si aggira sui 1000 euro. Gli inquirenti hanno trovato nelle vicinanze un paio di tanniche di plastiche che avevano contenuto benzina, utilizzata evidentemente per attizzare il fuoco. La consigliera regionale Angela Motta ha lanciato una mobilitazione per impedire la cancellazione della provincia di Asti. Lo ha fatto con un appello, si legge in una nota, rivolto a tutte le istituzioni, alle categorie, soprattutto ai cittadini, affinché si dia vita ad una mobilitazione per impedire la cancellazione della nostra provincia perché insieme ad altri territori contigui, alvese, acquese e chierese, si giunga ad un patto per un'aggregazione alla pari, dove nessuno è egemone ma dove al centro vengano poste le esigenze delle persone. Una neocentenaria è stata festeggiata in questi giorni. Teresina Rosso, residente ad Asti, città ma originaria di Caglianetto, dove nacque il 27 agosto 1912. La vediamo ritratta con l'assessore provinciale Pierfranco Ferraris, mentre riceve la pergamena di Patriarca dell'Astigiano. A renderle omaggio, oltre ai familiari, anche il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo. E domenica prossima, 2 settembre, ad Asti sarà celebrata la festa della Madonna del Portone. Alle 20.45, dal santuario dedicato alla Madonna Porta Paradisi, meglio conosciuta appunto come Madonna del Portone, partirà una processione che transiterà in via San Marco, Corso Domminzoni e Viale al santuario. Subito dopo, alle 21.30, il Vescovo di Asti, Monsignor Francesco Ravinale, presiderà una concelebrazione con il capitolo della cattedrale, i parroci ed i viceparroci, i sacerdoti ed i diaconi permanenti in servizio nella zona pastorale urbana della Diocesi. Ed ora facciamo un passo indietro a domenica scorsa a Cinaglio per comunicarvi i vincitori del concorso per i migliori canestrelli, cialde particolari ottenute con la cottura direttamente sul fuoco attraverso lunghe e tradizionali pinze di ferro. Il terzo premio di 50 euro è andato ai coniugi Prelone, il secondo di 100 euro a Felicino Ponzio ed il primo premio di 150 euro a Maria Carla Cortese. Questi dunque i migliori canestrelli di Cinaglio. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.